Dobbiamo muoverci? Oddio, aiuto, che è successo? Abbiamo cominciato la live, è un messaggio, magari è il nostro fan che ci scrive appena ha cominciato la live, non c'è nessuno, guarda mi è arrivata la notifica che abbiamo iniziato la live, è arrivata la notifica a noi, guardate, c'è qualcuno, ciao! Ciao! 6, 6, 6 people, wow! Addirittura! Ciao! Netherlands cos'è? Ciao Attila, Anthony e Musical.ly Draw, io non ci vedo, sono mezza ciecata, quindi Christian... Netherlands cos'è? Ecco, facciamo subito la figurazione. No, i paesi bassi, per l'olanda. Ah, che bello finalmente, oh, grazie Caterina, che carina. Bene, allora, siamo in live per la prima volta. Aspettiamo che arriva qualcuno. Irlanda? Ah, ops. Ah, boh. Sorry. Quindi, vabbè, tanto iniziamo, mi stai aspettando. No, no, aspettiamo che arriva qualcuno, otto persone, dai, almeno dieci. Lo sapevamo che non sarebbe venuto nessuno. We knew nobody would. Ragazzi, quando fate la reaction di Little Mix? Mi riveto troppo, ah, mi fatemi dire. Eh, le Little Mix noi le amiamo. Andremo al concerto. Andremo al concerto. Tu andrei al concerto? Noi sicuramente sì. Cri, devi leggere te. Io ho problemi. Sì, l'abbiamo sentita Monopoli. Cioè, avete sentito Monopoli di Arianna e Vittoria Monet? Certo, io ho visto anche il video che ho fatto ammazzare dalle risate. Mamma mia. Poi, da che parte dell'Italia venite? Da Roma. Roma, Roma. Roma, assolutamente. Anche se abbiamo Londra qua dietro, ma... Sì, io adoro Londra. So fun, entertaining, fun to watch. Oh, thank you. L'altra di Arianna arriverà presto. Thank you, Santiago. You're so cute. You guys are so cool, thank you. Ah, abbiamo italiano, inglese. Roma, sud o nord? Eh, non si può dire. Roma, nord. Nord. Dimash ha la batteria. Giovanni, ciao Giovanni. Dimash per noi è un mito. Ah, è Giovanni Juan Ardengo. Ci scrivi su... Ah, ci scrivi sempre su Instagram. Ma dove dobbiamo guardare noi? Lì? La telecamera. Vabbè. Ok. Ah, oggi volevamo fare... Io non so se parlare italiano o inglese. Parliamo italiano. Italiano? Sì, ora ci hanno scritto tutti in italiano. Ci sono le più italiane che in inglese. Va bene. Allora, intanto devo capire come funziona sta chat. Allora. Mostra il tuo sostegno. Emoji. Che cavolo. Ah, io posso mandarne uno. Facciamo una prova. Live. Live. Ok. Ancora non ho preso i biglietti per le termine, spero non siano soldati. No, non siano soldati. Non pensiamo. Almeno non mi sembra che siano soldati. Sì, sì, no. Lo seguiamo lui. Lui è quello che mette tutte le note presente. Il video che fa, tipo mette So Young e tutti i tipi di note. Vabbè, intanto adesso ci possiamo andare noi tecnicamente. Però io ho una domanda. Se io voglio fare una reaction, no? Come faccio poi a ammetterla? Che la vedono anche loro? Loro non la vedono. No, c'era un modo. Io ho visto che arti lo fanno. Questo che è? Super chat. Oddio. Mi sto donando i soldi da solo. No, no. Acquista e via. No, no. Come faccio? Scusate, è la prima volta. Non sappiamo. Voglio molte più love di Arianna. Devi essere esperto. Infatti, non siamo esperti. Proprio per niente. Infatti questa è una live un po' da combattimento. I hope you react to Dimash. New song now is like a dream soon. Sì, we will react. We will do it. Very soon. Mamma mia, nove persone. Ma che ce frega da... Siamo stanzo, ma tutte le persone. Quest audience. Hi, surfing is my thing. It's so cool. Giovanni, forse... I have a reaction request. Yeah. Ah, dai. Tell us the reaction request. Mamma mia, che inglese, ragazzi. Request. Allora... I know, Mr. Zoey, it's a cute bit, but please watch it now. Now? Oddio. Now I need to know how to do it, because I don't know if you can see it, actually. If I watch it. I don't know if you can watch it. Buh. Anche solo da telefono. Vabbè, è vero. Eh. Però poi non vedrete niente. Non siamo state. Eh, vabbè. Oh, lo sanno il video che... Ah, infatti. Che ce frega? Allora, che ci ha detto di fare? We can use another device. Ok. But... Eh... Ci ha detto di fare le reaction ai video di FedSax98. Ma quale esattamente? Vabbè, una a caso. We are using another device. Ok. We do it. Yeah. Allora, vediamo un po' che ci abbiamo. Ci facciamo per primo. Intanto metti il suo canale. FedSax. Dovete sapere che c'è una canzone di Ari e Niki che non se la sente nessuno e neanche riconoscete, ma è bellissima. Ok. Can you search Pynote, Mr. Zoink? Oh, dai. Vabbè, vediamo sto Pynote, no? Let's start with Pynote, Mr. Zoink. Comunque va bene, Francesca, sentiamo anche questa. Non ti preoccupare, piano piano, perché siete troppi. Queste dieci persone. Dei bambini. Ma che è? Cioè, sono studios. What is this? Non è che è una cosa strana? Boh, let's hear it. Pynote. Pynote. Mamma mia, questi, mi fanno paura a queste cose. C'è preso per bambini in dieci anni? Guarda, secondo me è una roba strana. Yeah, it looks cute. Ma perché? Get on your knees, chiamo, e mi fa della reaction. Ok, adesso la facciamo. C'è stato a scrivere la marea? Yeah, we will keep it on YouTube. Ma sono andato a mettere la marea. No, no. No, ok, no. Scusate. Ma secondo me è un bambino che ce l'ha chiesto. E' carino. Che dico, no? No, no. No, no. Senti, la strabella. Please do not delete this slide, keep it on YouTube. Ok. We will keep it on YouTube. Oh, che pochettino sembra. Va bene, allora. Wow, this is so amazing. Ok, it's nice. Ma since we have to do a lot of reactions, Yeah, we do a little bit of every... Ne facciamo un po' di tutte, ok? Did you know every... Wow, good for you. I wish I'm just gonna... Ok, allora, adesso facciamo la reazione a Nobody does it better, ok? Christian, vediamo un po'. Nobody does it. Get your knees. Do stanno? Ah! No, nobody... Ma di chi è? Di Ariana. Non è la grande. Non è mai sentita, cioè mai... Sarà qui... Io spero che non ci mandano tipo gli strike di copyright. Ma che state a fare? Ah! Caterina, allora, stiamo facendo le reaction. Siccome non sappiamo come... Ma tutti gli youtuber mettono sta reazione. Oh, io non so capace, è la prima live. Pure noi ce lo danno ancora un po' meglio, vabbè. Questa è una live di prova. Adesso faremo la reazione a questa. Nobody does it better. Yeah. Ok, la sentiamo, spero che non ci... Ci vanno le lezze. Yeah. La sentiamo. Già. Speriamo che non ci mandano lo strike per il copyright. Ariana, fai la brava, eh. Oh, sì. 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 Marina. Dove mi piace? Mi piace. Mi piace. Che stanna che è. C'è un sound particolare. Questa è stra carino, che carino. Carino. Grazie. Oh, mi piace questo sound. Oh, no, no, raga. Ho flashato, sembra una canzone vecchia di Justin Timberlake. Tipo Cry Me A River. No, è simile. Sentiti Cry Me A River, secondo me è uguale. Cioè, i famigli hanno un sacco, vabbè, a parte questo. Ma che c'è in testa? Un arancio. Ma... Ma... Oh, sì, oh! Bello. È una grande, c'è una voce ragazze. Mi piace un sacco. Ma ti piace un sacco? Ma ti piace un sacco? No, perché... Comunque... Aspetta, aspetta un attimo. Ma... Did you guys see... Yeah, sometimes we... We lost some comments, because we are also reacting. But no, I didn't see it. Yeah, I see it. You saw it? Yeah, I saw it. Okay. And I loved it, just to answer your question. If you guys read my comments... Oh, no, we read the comments. Oh, bello! Bravo! Bravo! Okay. Comunque, chi è che ci aveva detto di reagire a questo? Nobody does it better. Chi ce l'ha detto? Stefano's official channel. È bellissima. È bellissima, ci è piaciuta tantissimo. A me è vero. Tantissimo. Poi abbiamo... Get on your knees. Okay. Francesca. Bend me. Giusto per stare all'interno, perché domani... Domani venisse il trono di spade. Il trono di spade. Noi adoriamo il trono di spade. Fateci sapere se vi piace. Allora, com'è che è? Get on your knees. Com'era questa? Get on your knees. Stasi belle. È scaricata. Però allora non penso che ci piace la playlist. Sì, allora mi sa che è una proprio mal sentita. È una riuscita che l'hanno trovata. Qua prossima scrivo ancora. Eh, beh, piano piano li seguiamo tutti. Tutte scaricate. Allora, non pare di spade, è una canzone scartata da Ginger. Eh, infatti immaginavo. Come ci saranno a me prima. Immaginavo. È la di alcune di da qui. Oh, raga, tra l'altro il 26 aprile asceva una nuova canzone dello Swift a stare tranquillo. Per chi non lo sapesse, io sono stra-fan. Giusto così. We are Italian, guys. Sì, Italian. Do you remember the part with the Disney Princess 2, do you remember? Maybe. I don't know. We don't remember. I saw it, like, so many years ago. No, to switch from the top shelf. Do you think you guys go offline? No, I don't think so. Not now, maybe. No, no. Maybe later. Allora. Nobody does it better. Comunque è bellissima questa Nobody Does It Better. Oh, wow. We can't understand what you say. Oh, ciao. Quindi sta canzone... Cioè, hai ragione. Hai ragione. Ok, eccola. Ecco. Ok. Iniziamo con questa, eh. Vai. La velocità della birra. Vai. Vai. Ah, è di The Pink Queen. Rrrr. Questa. È lei. Sembra l'altra canzone sua. Questa dove la troviamo? Qualche album? Sì. È mell'album di... Vinny Vinascio. Allora, il sound non mi fa impazzire finora, eh. Oh, siamo 15, ragazzi. Mi piace sta parte. Oh, ora parte, dai. Wow. Wow. Che bello quel pezzo. Yeah. Ci piace, ci piace. Questa mi piace. Questa la scaricherò subito, veramente. Però mi è piaciuta più quell'altra, eh. Sì, finora. Ok, leggiamo qualche commento che... No, my first channel is The Babes TV. I saw the light. Oh, thank you. Ok. One member of the big blue house. Quella non la ricordo. Dopo, se volete fare la action, Alien Voice is famous. Oh, ok. Va bene. Martino. Io non ce vedo, eh, Cristiano. Mi sembro una tarpa. Sto facendo. Vabbè, allora. E se vuole leggo io, eh, non hai idea. Sì, sì. È che mi viene... Vabbè. Ragazzi, non reagite a So Young da un sacco. Ah, hai ragione. Hai ragione. Dobbiamo fare anche la reaction a So Young. Eh, troppe cose dobbiamo fare. Ci sono tante cose. Piano piano facciamo tutto. Ehm... Ok. È good. Ok. Alien Voices. Ok. Allora andiamo su Alien Voices. Uno per volta. One by one. Yeah. Alien Voices. Singers. Vediamo, eh. Ecco, dovrebbe essere questa. La prima. Se non vedete. L'ultimo video di FedSax. 98 singers eating multiple. Ma FedSax, noi lo seguiamo. Cioè, sei tu? O sei un suo amico? Lo seguiamo? Io so, siamo iscritti al suo canale. Sì, infatti siamo iscritti. Cioè, pure più iscritti di noi, questo furbacchione. Ok, vediamo. Faccio. Ma che hai fatto? Polyphonic singing. Wow. Wow. Lala Hathaway. Lala Hathaway. Passiamo su Young Channel. Lala Hathaway. Sì. Ma Maria Kelly. Questa fa della roba. Ma lei è un pazzesco. Ma come fai? Cioè, mentre parla vuoi. Questa è Maria Kelly. Questa è un'attività. Arianna riesce. Arianna riesce, sì. Oddio. Oddio. Oh madonna, santa. Fa paura questo. Wow. Ma fa due note contemporaneamente. Oddio, come fanno? Mi piace Cioè, veramente è come se Due serie di corte vocali C'è un messaggio in attesa di revisione Chi è che ci sta Vivendo le cattiverie? No, nessuno Ciao Ah, e più di penso Con Andrea Bocelli l'ho sentita, è stupenda Io non l'avevo mai sentita comunque Con la tecnica delle due note di contemporaneità La prima volta che lo sento Neanche io Tatiana Oddio Grazie È lei Mamma mia ragazzi Questa tecnica delle due note è difficilissima Sì Sì Sbam Wow Madonna Sembra tipo un flotto di pan Battista's voice Sounds like a real instrument Vero, sembra uno strumento musicale Comunque noi non possiamo mettere... Ma che roba è? Lo sappiamo, però è figo È un video che stiamo vedendo Alien Voices Si chiama Questo effettivamente è uno Entra adesso Sembra che si è Va bene Comunque l'abbiamo visto Non lo vediamo tutto Adesso dobbiamo vedere quello di Soyang Channel Che ce l'ha chiesto Eh, ma che video è? Vabbè, vediamone uno Ah, Soyang Channel Ok, però dobbiamo andare Vabbè, vediamo qua Ah, sì Sì E c'è il tavolo di mano Mamma mia Che svegli, eh Proprio Ah, Soyang Channel Vediamo un po' Eccoti Penso che sei questa Sì, ecco Tu hai la stessa immagine Sì Anche se tu non ci vedi questa La stessa immagine Eh, no, lo vedo Allora Vediamo ce n'è uno L'ultimo Un giorno fa Ah, vediamo l'ultimo Soyang Best I Know On Coms Oh, Soyang è favolosa Ragazzi Ma mi amo Ciao Letizia Tutto bene, grazie Ciao Per chi non lo sapesse Stiamo facendo una reaction live Che ci hanno chiesto Al massimo L'hai caricata un po' basso di suono No, magari è questo video L'ha usato Vabbè, mi piace Wow Mamma mia Non è possibile È assurda lei Oh, bene Ah, questa qua è Mamma mia Mamma mia Bellissima Mi piace troppo Sì, è un mostro di nuota Senti Oh Sì, sì Mamma mia Guarda, per un sacco di tempo Che è, 20 secondi Una nota Avante Ci siamo iscritti Con l'account personale Oh, ci siamo anche iscritti Col suo accanto personale Non col nostro Perché qua se muovo qualcosa No, più che altro perché io non sono capace A metterlo Infatti, allora Quindi Honeymoon Avenue L'Omba Edition Che potete fare L'Omba Edition Che potete fare l'Omba Per partire Elena Grande Ok, allora Facciamone una alla volta Quindi abbiamo detto Honeymoon Avenue Vediamo Ecco Honeymoon Elena Grande L'Ollabay Edition Eh, non sa L'Ollabay Edition Ecco L'Ollabay Edition Ci ha chiesto Metti L'Ollabay Edition L'Ollabay Ecco Eccola Eccola qua Cinque anni fa Bene Aspetta, vediamo se ci scrivono Che bello Che finalmente riesco a vedere Un album in tempo Oh, meno male Hai ever watched BTS' new song? No No We lost it But BTS is nice We can do it Tutto l'ultima video di sette Anche io ho l'internità Ma ora ci arriviamo Vediamo la canzone Vi vedete se è uscita ieri Si chiama un po' Oh We're gonna do this one Hello, babes Ciao Ok Uno per volta Honeymoon Avenue Now we're gonna react To this one Dai Ok, vado Ah, è proprio lei Che voce ha Daniela Ha una voce bellissima Una delle più belle Che ho sentito Tra l'altro Adoro questo Maglione Oh, sta cantando a cappella Così Brava Che piccola Dove è che stava fatto Proprio amatoriale Così Wow Wow Che bella Che bella Ma che vita Come fai a non amarla Eh, non lo so Ciao Ciao È troppo carina Sì Ma questo è però il suo canale Proprio Mi piace Arianna Mi piace Mi piace Mi piace Allora Ok, basta però Un pezzettino di tutti Perché sennò Qua Il nome da Mio amico è basso Ah, ho capito Vabbè, però comunque si sente Cioè nel senso Uno lo può sentire benissimo Oh, sì Ci ricordiamo di te Arianna X Vocal Su Instagram Sì Sì Lo sappiamo che sei tu Allora Quindi Facciamo così Io Mi interessa questa BTS New Song Questo mi interessa A me BTS Piacciono la morire ragazzi Non proprio tanto Poi ce ne sta uno in particolare Che secondo me è proprio carino Però Questa è Questa è una cosa extra Allora A voi With love With love E ciao sono Ok Allora BTS Con Ansi Ansi Ah, questa è quella che ha fatto Quella con Shane Smogel Vabbè Sì Con Mico È uscita ieri Mazza Potevamo facciare La reaction Quella fatta bene Potremmo Eh, potremmo Vabbè Facciamo un piccolo Un trailer Un trailer Che è il vostro Il vostro preferito Ah, il crush dei BTS Ah, scusate Io allora Cerco di farvelo vedere Qual è quello che mi piace a me Già mi piace Già mi piace Persona Persona Sono come persona Persona Oh Tutti i vestiti di roda Sono uno qua No, non è lui Spero di riconoscere Lo c'è insomma Io Oh Mamma Questa Un piccolo Un piccolo Un piccolo Un piccolo Un piccolo Un piccolo Perché penso che sia lui Quello che ciò Mi aspetta No, li devo vedere Tutti insieme Io che sarei Immigliata Come fanno delle voce Che non sono troppo belle Oh Oh Bellissimo Sì Troppo Fai come ballano Mamma mia Mi piacciono da morire Wow Bellissimo Non lo riconosco Mi hanno cambiato i capelli Eccolo L'ho trovato Adesso lo devo Eccolo biondo Questo qua Aspetta Vediamo Se lo fanno vedere Dovrebbe essere L'ultimo Lì In fondo Ecco Dovrebbe essere Ok Fermi Allora Dovrebbe essere Eh Non si vede niente Oh Che bello Non si vede niente Niente Vabbè E' uno biondo E' quello biondo Se prendete il video E' quello Quando stanno seduti sul divano Aspetta Aspetta si vede Non si vede Non si vede Vabbè Questa è la scena Stanno seduti sul divano Aiuto C'è stato scrive troppe cose Allora Questo comunque L'abbiamo fatto La reaction Comunque si E' quello Nel video E' quello biondo Esatto Ed è Mi sembra L'unico Che parla inglese Bene Fatemi sapere chi è Perché Interessante Come cosa Beh Anche la nuova canzone Delle Blackpink Ci dicono Kill this love Ok Allora Ah Diciamo che le faremo Pure a parte Sì Qua facciamo un pezzettino Questa sicuramente Probabilmente faremo La reaction Un buon consiglio Le fist harmony Sì Ci piacciono Tanto Sì Avete ascoltato Qualche canzone nuova Di qualcuna di loro Allora Sì A me piace Expectations È il modo del let Di Loren Perché io adoro Allora È bravissima Poi c'è una voce Poi mi piace Low key Di Come si chiama Non mi ricordo È carina Low key Low key Non è tutta così No Io Dancing with a Stranger Che ha fatto Normani Mi piace troppo L'ha fatta con Sam Smith Quella mi piace Normani è quella Mi piace un po' di meno Tra tutte quante Sì Ma Camilla Per prima C'è l'album di Camilla Tra l'altro C'è anche la reaction All'album di Camilla Che beh Sul nostro canale Fatta tipo Un anno fa Se la volete vedere È divertente Allora Poi Sì Comunque Le tizie ci piacciono Le tizie Le tizie Le tizie Le tizie Le tizie Mi piace tantissimo Ellie Brooke Ma devo sentire Ma cosa devo piacere È carina Mi piace un sacco Poi A Million Voices Danelia Tuleshova Ok Oddio Fate la reaction a Fate C'è una canzone C'è una canzone di Camilla Ah sì Camilla Cabello Mark Ronson Non male Perché l'ultima di Mark Ronson L'ho sentita Era quella con Mary Silas Che mi è piaciuta Sì Quindi Mi aspettano La canzone E' una canzone E' una canzone E' una canzone E' una canzone Comunque La prima che facciamo Quale facciamo Io voglio sentire questa di Ellie Però adesso Scusami C'è Fammi capire Loki Loki Io rispondo a un messaggio Mi assento due secondi Ecco Loki Si chiama Loki Ahia Non volevo picchiare Mi fai male Ellie Brooke No Sorry I had to listen to this one A me Ellie piace tantissimo Nel hip harmony Faith Cerenna E Stevie Wonder Ah Faith Erika Oddio Ciao Erika Questa è una nostra amica Per quello ci scrive così Grazie per averci chiamato Vaccone in diretta Veramente Allora Fai ti ascolto tutte le volte Ok Oh 19 Ciao belli miei Siamo 19 in live Wow Wow Cioè dovrebbe esserci pure mio fratello Ma Non si è fatto vedere Alessandro Se sei live Non mi stai scrivendo Sappi che ci sono rimasta molto male Piume delle mie piume Quelle live God is a woman God is a woman live In Albany Dal minuto Ok ok Facciamo così Prima facciamo Loki Di Ellie Brooke Perché mi piace Chiunque se ne va Con fiamo Dai Erika Adesso Erika facci una donazione Poi te ne vediamo Ok Che è partito qua? Aiuto Che è partito qua? È al massimo Perché è solo l'inizio Può nasce Che è partito qua? Che è partito qua? Che è partito qua? Io cerco di metterlo Tipo Ecco Se lo metto così E tu vieni di qua Eh? Io vedono pure loro Ma che vuol dire Loki? Loki Chiametà È il tipo che si chiama Aho Smettite di guardare Su Vai lì Eeeh Eeeh Mi chiamo di tornerlo Eh Con questa gambettina Così Woo Carina Woo Yeah Come Sotto sotto Ti piaccio Ah Grazie Letizia Meno male L'ignoranza Qui Oddio Perché si vede L'avete pure Almeno così Lo vedete un pochino Di baghi No ma esci da lei Non a me Non a me No Non so Oh ragazzi I love it A te Erika Ok Prendi Spodify Oh Ok Devo ricordare cose Che devo scrivere Non si spodify Alì È Per me Ciao Ma la sorella di Cristian esce Così lo sapete anche voi Ma ti prego Ok dai Facciamo lei Che ci sta scrivendo Da tre ore Allora Però reagite da metà Che la fia Allora ragazzi Prego Son Oddio Dimmelo tu Son 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 Eccolo Comunque Matana Ennegri Aspetta Ce eravamo quasi E quale devo mettere Però Son 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 Amore Oddio Ho sbagliato Aspetta Ci vedo Allora Intanto Sel Son Son Allora La reazione Che dovete fare Mamma mia Hai ragione Allora Facciamo Le leggite E' on Lost No Sì Allora Ce lo scriviamo Oddio Ecco Scusa Mi è scampato Eh Aspetta Io mi metto le note E mi segno Le cose da Da scaricarmi VTS Dobbiamo Ambitur Bello 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 Fate fate per primo Eh Abbiamo messo prima Questa Dopo facciamo fate Te lo prometto Che la sappiamo a memoria Però Ci piace Come sei? Buongiorno Grazie 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 Ragazzi Reggite dalla metà Dalla metà Che bella che è Dalla metà Ma tu anche voi dovete vedere Da metà Da qui Qui Io lo devo mettere qui Ma questa non è So Young No So Sei un gelo Io penso che eri Scusate le canzone Penso un po' Mamma mia Che ignoranza E' proprio questa Wow Bello Bello Where are you from? Rom Italy Oh yeah Ma guarda che buco Certo Wow Don't leave Remorse Regressor Fidemi 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 Marone che voce E' una coreana bionda Che ti piaceva Ricordi? Io O lui Marone che voce Marone che voce Ma è missio Mamma mia Te lo fa di proprio Ma dai ma lui che bella Che bellissimo per minuti mi piace ho il brillo da tutte le parti ma fai le parole che dice mi mansi torna da lei oddio raga mi sta emozionando è troppo bella no ragazzi questa è fantastica faremo più reaction dobbiamo fare più reaction di lei sogniamocela BTS l'abbiamo messi allora magari Kill This Love del Blackpink la faremo però a parte non qui ok quindi Blackpink Blackpink in the area ti ricordi? Blackpink in the area Blackpink come si chiama? hai detto? Blackpink Kill This Love Kill This Love baby don't hurt ma vuoi fare la locca? l'hai scritto Erika Erika dai non stiamo a casa qui ok comunque Kill This Love la faremo poi can you play dobbiamo fare Fate adesso Fate 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 intendete quella di Ariana con Steve Wonder quella che è del film che bello col film poi facciamo anche faccio un acuto pure tu ma c'è la Twitter Erika avete visto il video di Ari e Vittoria allora allora il video invece di tu non hai visto il video di Monopoli ce lo vediamo ce lo vediamo io l'ho visto ma lo devi vedere pure lui perché è troppo carino dopo Fate facciamo Monopoli io devo sentire questo passaggio madonna mia oh c'è sta fidanzata quanto allora intanto lo metto io ma questa quanto mi piace sta canzone lei in questo video secondo me è bellissima sì è super cioè proprio com'è vestita tutta sguardo finoso ma è single film sì ho visto il 28 volte io una mi è bastata troppo bella poi c'è pure cosa mi piace il mio il Miami il il l'elefante l'elefante io non la faccio a memoria il canto è un po' l'elefante I bet you hallelujah vai Christian quanto mi piace sta canzone è perfetta in questo in questo l'elefante vabbè è un ciclo grosso però possiamo guardarla anche noi no ma è bello che questo viene lì qua sto dietro a te vabbè non lo vedete voi perché Christian dice così è gnoccuna non mi interessa è buona è buona anche il vero all'elefante all'elefante facciamo anche quello orretta è Never Love che è oddio troppe comunque si è bella Arianna non sembra che ha 12 anni a me non mi sembra forse qualche anno fa ormai no se canta Chris non si sente va bene l'abbiamo sentita basta non riusciamo a sentirlo tutto allora poi abbiamo Ah Erika facciamo pure la tua cosa ci hanno scritto poi già mi sono scordi io mi scordo vabbè non riusciamo a seguirvi tutti piano piano a God is a woman live no qualcuno ci aveva chiesto prima qualcos'altro vabbè no God is a woman oh ragazzi mi hai dopo l'ultimo video ah giusto l'ultimo video facciamo sto ultimo video di FedSax oh stiamo a fare un po' de promo no Arianna ci deve pagare no anche FedSax a noi non ci paga mai nessuno qua allora a Monopoli no io voglio far prima Monopoli devi vedere c'è la Monopoli a me mi ha fatto morire dalle risate dalle risate ci sei? si è fortissimo a me piace troppo questa canzone raga io non ho sentito ancora Monopoli la senti live con noi poi queste frasi che escono qua c'è Arianna che pare che è andata da sola fa tutto lei dai da lo sai non vedi che staccatona comunque lei sembra molto più grande da Arianna l'amica tua quanti anni c'aveva? 30? una cosa che non mi piace è com'è vestita ve lo dico proprio nel modo più onesto e sincero possibile ma c'è sto collare fa delle facce stupende Arianna B6 è una scoperta infatti si ma lo sapevamo proprio non me lo immaginavo proprio comunque la canzone mi piace tantissimo non da inizio inizio è noioso non da inizio è noioso non da inizio è noioso no 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 beh sì sì no no l'abbiamo visto infatti io quando l'ho sentita la prima volta ho detto comunque non me l'aspettavo proprio comunque è carina dai è carina a me piace tantissimo il video mi fa ridere troppo poi abbiamo raga qua tra un po' me sa che se fermeremo sì anche perché è giusto 50 minuti facciamo live 50 minuti di live ragazzi dice che la canzone alla fine della scritta Vittoria è Gabby Sex a serio sostiene solo questa cosa cantando con la tua amica che non sia la prima ma solo sostiene la tua amica e vabbè ma sì ma che ci frega anche perché dobbiamo andare a mangiare le fragole con la panna beh questa è veramente Alessandro se stai guardando questo video non sei venuto in live a vedere la tua sorellina sono molto anzi adesso gli scrivo cerca FebSax vai gli scrivo io Alessandro eh beh è scritto lui è uscito FedEx FebSax ah ma questo è il telefono dei no aspetta facciamo God is a woman live in Albany prima che ce la chiede dall'inizio ok va bene ok va bene va bene vai God is a woman però poi facciamo FebSax io metto il primo che c'è esatto facciamo FebSax lo giriamo ma chi è questa? ah no dal due minuto dal due minuto ok ok for quattro minuti zitti qua fa l'urletto che piace a me infatti tutta di ariana è stata oh mamma mia uguale a me sembrava che cantasse uno sotto non so a te non è tipo un fan che cantava che ho fatto no non vi ho cambiato video aiuto rimettiamo scusate errore mio adesso voglio ricafire quello che ho sentito ho fatto un whistle ovviamente che figo wow bellissimo ti si sparta no comunque assurdo l'ultima volta devo capirlo che figo wow adesso young che nel pubblico si è mozzata è accutato bella questa ha accutato ok allora allora adesso che dobbiamo mettere una cosa che bisogna te che non lo faccio più e vabbè no dai non vogliamo non farti fare quello che devi fare allora perché? perché penso che stai facendo dei conti di ah mamma mia c'è il cane che è creato una puzza veramente mamma mia c'è prima il cane che è grosso 80 kg un cane corso italiano bellissimo ok quindi mo che dobbiamo fare oh famoso fed sax mannaggia prima allora questo è l'ultimo che facciamo e poi primo vi andrà a dire la cacca del cane secondo grazie di questo esatto noi staremo qua tutto il giorno ci divertiamo troppo poi siamo 11 proprio da sembrare una chat tra amici proprio eh mi è piaciuto un sacco senti fino a qua ah no sono i miei vieni eh ragazzi troppi la prossima ogni sabato vogliamo fare una live ci proviamo proprio così ci proviamo almeno ok io subito ogni sabato stiamo calmi vabbè ci proveremo a fare un po' di live ok iniziamo mettiamo questo fed sax sarà l'ultimo ragazzi facciamo la reaction oh è scelto fed abbiamo capito basta fed sax fed sax 98 che devo mettere l'ultimo quello che è uscito per ultimo ma l'abbiamo visto non lo so io metto fed sax no non era no abbiamo visto alien voices ecco male singer sitting in female singers i not video popolari video per caricare ecco una settimana fa ce l'ho fatta da che minuto bam mamma mamma mia mamma mia mamma mia adoro che è di Ritori Candy di Perry allora aspetta no spero non è quello eh oh soyang channel dai scusa però siamo già partiti io sto malendo l'alcanza eh questa sfoglia di ta na 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 succederà anche posti poveri occhi tu 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 allora singer hitting multiple multiple poi high notes eh che è questo famous singer sitting multi è quello con me young channel mannaggia stimola di fuori di grido mi piace già che c'è Tori Galli per primo dai vediamo qualche artista che ci piace ma chi è questa comunque ragazzi io vi adoro grazie Emanuele oh oh faccia tutto vi prego vabbè lo facciamo tutto vabbè è l'ultimo lo facciamo tutto Arianna oddio questo oh mi coscia il singer adoriamo wow wow che sta togliando semplicemente è so young ma proprio tutta la vita oh Lara Fabian l'arancia è bellissima mi ricordo Celine Dion dovremmo sì questa la sappiamo panteggia e Kelly Clarkson marone wow 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 oh mamma mia che voce chiede 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 vabbè Demi dove è grazie Demi dove è mia moglie Demi vogliamo fare Demi io voglio Demi oh questo è Adam Lambert madonna quanta lui ha una voce adoro oddio questa mostrilla mamma mia non c'è mai piacciono la roba che genere sembra che ho battuto il mignolo io penso che mi ricordo carino tutti i polmoni escono fuori oh Cristina eh Cristinona mio Dio mio Dio mio Dio eh vabbè e qua si sta degenerando non certo ma è morita a te momma che brava dai madonna questa scelta oddio voglio la tua voce ora adesso ascolta bellissimo ecco la coreana bionda top allora basta basta tutti ragazzi ci siamo divertiti un sacco noi volevamo fare un quarto d'ora invece è volato il tempo infatti senti che roba oh quasi c'ero io mi esco fuori gli occhi esatto esatto però anche lì vai a pulire stagato e vabbè insomma siamo qui per salutarci mi dispiace un sacco vabbè leggiamo giù sui ultimi commenti che ho young ha dominato video e la domina anche quando non c'è devi spazio a guardare Morisette spazio a guardare Morisette eh vabbè però mamma mia vabbè quindi oggi abbiamo fatto un po' di reaction esatto ci sia piaciuto ciao ciao baci baci ciao ci vediamo dopo il prossimo speriamo ci proviamo perché siamo tanti impegnati però ci proviamo a fare un'altra vibe anche se siamo dieci persone che ci frega insomma infatti e adesso no basta adesso no ci dobbiamo salutare ragazzi oddio già vi mancate addio 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 noi ci dobbiamo lasciare chiudiamo così proprio brutto mamma mia io dico io dico io non vedo l'ora di dito oddio scusate che devi fare questa cosa brutta poi bel magnone complimenti a te non è un magnone è una magnone è appunto basta quindi gritto fare wherever you are esatto ma non so siete troppo carini cioè è bellissimo stai ciando così mi sembra di stare tipo sai gli aperitivi degli amici non è arrivata la notifica eh io non so come si fa ecco io io non so come si fa la notifica ragazzi se voi ci capire è arrivata è arrivata però non arriva perché per esempio due nostri miei amici che dovevano essere qui due nostri miei amici mamma mia due nostri amici che dovevano essere qua non ci stanno quindi secondo me non è arrivata la notifica proprio ma invece come audio si sente bene tutto quanto no? si sente tutto speriamo che si sente beh certo sono stati qua fino ad ora hanno sentito qualcosa ti vuole mi urlare a me si ho cliccato subito vabbè meno male dai a me si yeah ho scritto prima please non sappiamo cosa è scritto io sediamo a 41 anni dalla settimana ah bello ma so quando non vi vedo parte subito la secca oddio no ogni tanto raga basta voi salvo seconds hi beh sei arrivato darby you're late you're closing everything like sorry va bene ragazzi quindi ci vediamo nella prossima live comunque seguite i nostri video perché arriveranno altri video oh che carino grazie siete troppo carini ma io non riesco a chiudere mi pare brutto mi pare brutto mi hai fatto visitato va bene quindi ciao ragazzuoli no dobbiamo salutare come nei nostri video bene salutiamo come da video quindi detto questo ciao come si chiude non lo so ah carine vuoi terminare la stream bye ciao ciao